Qual è il ruolo del consulente patrimoniale e quali sono le competenze che porta nella relazione con il cliente? Oggi viviamo effettivamente in un momento di grande cambiamento e quando parliamo di cambiamento spesso parliamo di tecnologia, le fintech, le insurtech, io credo che ci dobbiamo parlare di cambiamento anche nel ruolo delle persone perché oggi molti clienti purtroppo in questa evoluzione non sono a conoscenza degli effettivi loro bisogni, faccio un esempio un proprietario, un imprenditore che è una SNC non sa i problemi che può capitare nel momento in cui il suo socio venisse a mancare, dove invece con una semplice soluzione assicurativa magari accompagnata anche da una soluzione giuridica, la modifica dello statuto, un testamento adeguato riesce a risolvere il problema, quindi il ruolo del consulente patrimoniale deve essere quella persona in grado intanto di relazionarsi con il cliente e quindi sviluppare quelle che chiamiamo generalmente soft skill che vanno oltre le competenze che può darci la macchina con la tecnologia, ma nel capire correttamente i bisogni e saper abbinare insieme soluzioni assicurative, finanziarie, ma all'interno di un contesto giuridico e legale che possa fondere una soluzione completa, quindi il consulente patrimoniale dovrebbe essere la persona che dà al cliente una visione complessiva di queste sue possibili soluzioni ai bisogni, poi ovviamente dovrà andare dai singoli professionisti, l'assicuratore venderà la sua polizza, il notaio farà l'atto, il commercialista farà l'operazione straordinaria, quindi sicuramente un ruolo da collante, da catalizzatore, che infatti noi proprio come Cleros proponiamo nel mercato a supporto di professionisti. E la proponete anche come opportunità di sviluppo commerciale? Effettivamente lavorando con questa nostra soluzione, questa nostra offerta di consulenza, noi vediamo che molte società, singoli professionisti, banche, banche reti, assicurazioni, hanno veramente un incremento a due interi sull'attività, perché i clienti non discutono più se la polizza va bene, la soluzione va bene, c'è quello che mi fa 0,10 in più, 0,10 in meno, perché la soluzione diventa ormai una commodity, abbiamo raggiunto i suoi bisogni, abbiamo soddisfatto le sue esigenze e quindi la polizza va realizzata per forza, è la soluzione a fronte di un problema, quando il cliente vede che il suo problema è stato risolto, problemi legati a evitare l'elite in famiglia, problemi evitati a tutelare i minori, le persone disabili, a tutelare il suo capitale, che di fatto il capitale umano del cliente è la cosa più importante, è poi ovviamente il patrimonio, il patrimonio immobiliare che va fatto in un certo modo, l'aziendale in un altro, il patrimonio del denaro a fronte anche di tutela, pignoramenti, e anche il patrimonio reale, perché solo facendo delle piccole operazioni magari evitiamo di pagare tassi in maniera diciamo che non necessaria, ecco quindi il ruolo del consulente patrimoniale è quella persona in grado proprio di esaminare a 360 gradi questi suoi problemi, dando risoluzione al cliente e ovviamente generando grande opportunità di sviluppo commerciale per le società che offrono i prodotti. Gli italiani sono interessati e disponibili a interagire con il consulente patrimoniale? Noi oggi abbiamo visto proprio con i clienti l'importanza del ruolo del consulente patrimoniale, perché il cliente a volte è un po' scettico a parlare con la banca, con l'assicuratore, spesso il cliente quando ha un problema cosa fa? Va prima dall'avvocato per capire sono divorziato, la famiglia, ho dei problemi strani, poi dice ma quante tasse devo pagare? Senti il commercialista cosa ti dice? Ma che atto devo fare? Vai dal notario a sentire che atto, poi passi in banca dall'assicuratore, quindi ottiene informazioni corrette, a volte poi non tanto, che però deve sincronizzare e organizzare lui, spesso con fatica. Ecco che invece tramite il ruolo del consulente patrimoniale che è in grado di dargli una soluzione a tutto tondo, è coordinata, è integrata dal punto di vista delle tematiche legali, fiscali, finanziarie, assicurative, ecco che vediamo che il cliente addirittura si apre anche proprio in termini di fiducia familiari, c'è una separazione in corso e quindi ti aiuta a evitare che un erede diciamo scomodo possa entrare e influire, quindi gli italiani sono più predisposti oggi a parlare con un consulente patrimoniale, per non a parlare con il classico assicuratore bancario.